Con una nota ufficiale, il Viminale ha confermato l'inchiesta di Repubblica sui voli di Matteo Salvini con l'aereo della Polizia. Il Viminale ha detto che ci sono stati 19 voli del ministro utilizzando questo aereo. Repubblica, grazie al sito Flightradar che monitora i tracciati dei voli commerciali e solo in piccola parte quelli degli aerei di appartenenza statale, era riuscita a ricostruire una ventina di voli e nel nostro elenco è incluso anche un decollo da Linate del ministro con un aereo Piaggio 180 dei Vigili del Fuoco. Ecco, il Viminale ha detto che tutti i voli di Matteo Salvini sono leciti perché lui può utilizzare i voli di Stato in quanto sottoposto alla massima protezione e allo stesso tempo ha dichiarato, fornendo un elenco, che questi voli erano sempre legati a impegni istituzionali. Tutto vero, è quello che Repubblica ha detto e ha scritto, perché Salvini ha la prassi di unire a un evento istituzionale, a un appuntamento del suo ruolo di ministro degli interni, quasi sempre dei comizi elettorali e degli eventi della Lega o comunque qualcosa che riguarda gli interessi del partito e la sua ricerca di popolarità. Se noi andiamo a esaminare l'elenco fordito dal Viminale, vediamo che si inizia con il 13 settembre Bari la visita alla Fiera del Levante. Quello stesso giorno però Salvini va nel quartiere Libertà, dove è stato invitato da una petizione di cittadini che chiedevano di mandare via gli stranieri e tiene un comizio indossando la felpa, dicendo che la sinistra ha trasformato Bari in un grande campo profughi. Di certo non si tratta di dichiarazioni istituzionali. Si prosegue poi con una visita ufficiale a Verona, dove c'è la Fiera dei Cavalli e lì il ministro si è esibito in una sfilata equestre tra i suoi fan. E poi il nono forum economico euroasiatico. Si tratta di un evento sull'amicizia tra Russia e Italia, evento sponsorizzato anche da Gazprom e benedetto da un messaggio personale di Vladimir Putin. Poi noi vediamo che c'è, per esempio, la visita il 4 gennaio a Pescara per un comitato provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica. Subito dopo, però, Salvini, arrivato lì grazie al volo della Polizia, tiene il comizio di apertura della campagna elettorale della Lega in vista delle elezioni regionali in Abruzzo. 16 gennaio, Salvini vola con l'aereo della Polizia a Cagliari, Comitato provinciale Ordine e Sicurezza. Sì, ma subito dopo va a Quartu, ad Alghero, a Oristano, a tenere comizi elettorali della campagna della Lega per le elezioni supplettive e le successive regionali. Questa prassi prosegue, per esempio, venerdì scorso, vola in Calabria con l'aereo di Stato, ci si vogliono quattro voli di questo aereo, per una cerimonia ufficiale e la consegna di un bene confiscato alla mafia, ma subito dopo fa un comizio a Catanzaro per la campagna sempre del suo partito. Quindi va a Napoli per un incontro in prefettura con gli agenti che hanno catturato i killer, quelli che hanno ferito la piccola Noemi. E quindi riparte verso Milano, dove il giorno dopo ha la festa degli Alpini, e prende un volo alle 19.20. 20 minuti dopo c'era un volo all'Italia, per Milano, dallo stesso aeroporto, che sarebbe arrivato addirittura prima e sarebbe costato di meno. Questa serie di voli, potremmo continuare con l'elenco, in solo due occasioni riporta attività interamente istituzionali. Quando Salvini si reca in visita alle popolazioni colpite dal maltempo il 4 novembre, poi successivamente in un viaggio per consegnare un bene sequestrato alla mafia. Tutti gli altri eventi sono caratterizzati da qualcosa che non c'entra con la funzione di ministro, a cui lui però può arrivare lecitamente grazie ai voli della Polizia dello Stato. Ecco, quanto questo sia corretto o meno è legittimo, formalmente lo abbiamo detto, però l'abbinamento crea una grande confusione tra l'attività del ministro e quella del leader della Lega, una confusione di ruoli in cui è difficile capire cosa viene messo dallo Stato a servizio del ministro, giustamente e legittimamente, e cosa a servizio della sua frenetica attività elettorale, come abbiamo scritto, ha tenuto 211 comizi soltanto dall'inizio dell'anno, sparsi per l'Italia e spesso raggiunti con questi voli di Stato. Ecco, il ministro usa anche i ridilinea, usa anche i treni, certo. Adesso sarà la Corte dei Conti che ha aperto un'indagine a stabilire quanto l'uso invece degli eri della Polizia, e ribadiamo anche di quelli dei Vigili del Fuoco, sia legittimo o meno.